Piacere, molto piacere, Marzia Solonici Pereira Teixeira da Siu quanto lo sei sa, può chiamarmi Marzia? Piacere, Ettore. Ma io so che lei è maestro. No, per carità non mi chiami maestro. Ok, mi è malizzato. E chi è? Oggi è location manager. Ah, è bene. Devo occuparmi qui della serata, i costumi, la scena, insomma a fare un po' di tutto. Tipo factotum, diciamo. È in inglese? Sì, è in inglese, sì. Infatti si dovrebbe dire fact-cho-cho. Ok, mi è malizzato. Sì, sai, da più che factotum, qua ha fatto un cazzo, scusami. Non c'è nessuno del teatro, va? Sì, sì, i macchinisti elettrici. Eh, molto bene, allora mi richiami che siamo già in ritardo. Eh, ma si sono messi da colpo sulle straordinarie se ne sono andati. Sono andati? Quel forico? Pure il forico? Ma chi è rimasto, scusi? Siamo rimasti solo io. Ma non siete in molti. Ah, ma c'è anche lui. Lui, chi? Eh, lui, lui, il direttore di polvo scettico. Eh, mi chiami almeno lui, per favore. E se non dà, fa prendere un caffè. Ah, impegni improrogati, capisco, ma torna. Speriamo. Vediamo. Ah, però c'è che uno degli orchestrai. Uno degli orchestrai, e dove? È andato fuori a cercare i suoi compagni. Come mai? Sono spariti. Sono spariti? Vuoi sapere un po' cos'altro? No, no, direi che sono a posto così. Maestro, se non problema c'è. Non mi dica che andava tutto così bene. Il costume che mi hanno mandato, lei non c'entrerà mai. Qual è questo? Oh, che è la barba. Ma la mia c'è la barba. Ah, no, che è barba. Che cosa? Che regolci. Sì. Li hai trovati? Bello, bello e poco forse. Sì, mi è piaciuto molto. Tra l'altro mi sembra proprio che la storia si ripeta, vedendo che è stato piacevole, è stato divertente, è interessante, bello. A me è piaciuto molto, è diverso, è anche interessante ed è un ricordo anche di quello che si è studiato a scuola. Mi è piaciuto, ho visto Joelle Dix in un altro spettacolo più o meno dieci anni fa dove faceva tutte altre gag, però questa è diversa insomma da come l'avevo visto. Bello fare, riguardare la storia in questa chiave comica, un po' comica ironica. Grazie a tutti.